Siamo con Samuele Giordana, nuovo cetocampista del San Sebastiano e sei arrivato dalla Saviglianese quindi voglio chiederti il perché di questa tua scelta per questo nuovo progetto. Io allora sono stato tre anni a Savigliano, sono stato benissimo, però ho bisogno di nuovi stimoli e comunque lascio un ambiente che è stato come una famiglia per questi tre anni ma trovo un ambiente altrettanto familiare ma con ambizioni ed è quello che cercavo. Quindi società seria, ambiziosa, arriva da due campionati di promozione fatti benissimo e quindi speriamo quest'anno di ripeterci e anzi magari migliorare il secondo posto dell'anno scorso. E ritrovi anche il mister Cristiano Zabena. Sì esatto, sicuramente è stata una cosa che ha infuito anche nella mia scelta perché diciamo che questo è il terzo anno che sono con lui e quindi lo stimo sia come persona ma anche tanto come allenatore quindi sono contento di ritrovarlo. Senti, hai maturato tanto di calcio in questi tre anni che hai fatto a Savigliano tu hai già fatto sicuramente un bel percorso fin qui quindi insomma Samuele cosa porta in questo San Sebastiano? Ma diciamo che secondo me posso portare esperienza, appunto qualche campionato sulle spalle ormai ce l'ho quindi diciamo che la squadra è un bel mix di giovani e più vecchi quindi dobbiamo essere secondo me noi la guida giusta per portarli verso l'obiettivo che ci siamo prefissati quindi speriamo in una stagione super positiva. Allora sappiamo che questo girone C di promozione è combattutissimo però ci insegna anche che il San Sebastiano in questi ultimi anni è stato veramente tra quelle che hanno votato più in alto. Sì, diciamo che forse negli ultimi 10-15 anni, che mi ricordo io, non c'è mai stato un girone così competitivo però quello che fa la differenza alla fine è il dettaglio secondo me la voglia di arrivarci fino alla fine poi ci vuole anche un pizzico di fortuna perché purtroppo nel calcio tanto vuoi non vuoi quello conta tanto infortuni, bisogna sempre avere la fortuna e speranza di stare tutti bene fino alla fine però secondo me possiamo dire la nostra, quindi sono fiducioso.